esistecire il polo c'è un'educazione è un'educazione ma è una colonia è una colonia ora ho iniziato in scelta poi ci troviamo in un po' che ci ha avuto il gruppo da għana in un gruppo che mi staghi un gruppo il centro tal delz. F'lo għal t-team għajkun emme. F'lo għdu jikonna catechezi, catechezi kollog celebrazjoni fej kollog talk, kant, muzika, celebrazjoni f'l-mkien. Li għajkun f'l-post, hħdej il-post fej għankuro dinna għdu. Darba minna m'koll għan għamnu Pelle Grinac, marrajn għawa kolon fej għumurru kol il-katedral, narrawo il-shrain fej għamn l-relikwi tal-maġi. Di kem għajt Pelle Grinac, sa biħħafnur kol. U fil-laċi i għamtu l-dawol għanet, jikunem fej l-ġermani għat għum imf-vazaq t-team 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 t-team. Kollu għattifitaħiet l-ħekun għaddejjien, maġġen d-dawol klat-postijit kolla. U għahna, nasslu l-program taħna kif rridu għahna, bil-kalma kolla, jikkjiriddu namlu Dok-Satajna l-Moren-Fritajmin d-dullu s-Sity. Mis-problema, jikkiriddu jemdli klat-tifitaħni xiu ummarruha. Immarruha, namlu l-program taħna. Dħie! Grazie a tutti. 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 Amen. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.